E' stato presentato nella sala giunta del comune di Pordenone Festival Show, una delle manifestazioni itineranti dell'estate più belle, riconosciuta anche dal Ministero dei Beni Culturali, presente nel calendario di estate in città organizzata dal comune di Pordenone. La grande carovana di Radio Birecchina e Radio Bella e Monella, partita da Padova, arriverà a Pordenone lunedì 25 luglio in piazza 20 Settembre, portando con sé alcuni tra i più grandi nomi come quelli di Sonora, Virginio, i Cugini di Campagna, Donatella Rettore e tanti altri artisti affermati e giovani talenti. Saremo nel cuore della città in piazza 20 Settembre, lunedì dalle 21, grande Kermesse presentata da Lola Ponce, tanti gli ospiti per i giovani, per le giovanissime, abbiamo in Sonora e Virginio, il vincitore di Amici e poi i Cugini di Campagna, le Orme per quanto riguarda la musica del passato, ma avremo grande festa con la musica latineggiante dei Los Locos e ancora avremo Donatella Rettore e le Orme. Quindi un grande cast per una grande festa che scommettiamo attirerà anche quest'anno il pubblico delle grandi occasioni in centro a Pordenone. Anche la bellezza si mette in gioco, nel prespettacolo dell'Aero 20 avremo un paio di passerelle con le ragazze del Friuli del Veneto che si contenderanno il titolo di Miss Chaos Pordenone 2011 che darà la possibilità alla vincitrice di venire in finale a Verona con noi per giocarsi la possibilità di diventare la nuova testimonial del Marchio Chaos 2011. Un'incredibile carellata di artisti quindi con canzoni e big della musica che si alterneranno alle nuove proposte in gara. Quinta edizione di questa manifestazione estremamente interessante che raccoglie la trasversalità dei consensi del pubblico, quindi ci sono famiglie, ci sono persone di tutta l'età e questo fa estremamente piacere. Ricordo che l'appuntamento è organizzato in collaborazione con Radio Birichina e dal comune di Pordenone e l'ingresso è libero e quindi mi auguro un grosso concorso, una grossa partecipazione di pubblico come lo è stato in tutti gli scorsi anni. Grazie. 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 Grazie.